Ringraziando quindi ancora tutti per i contributi e per la presenza di questa sera, darei la parola a Antonio Colonna, che è uno degli autori del progetto che vi presentiamo, per una breve presentazione sulla quale poi chiediamo la valutazione e il giudizio dei nostri invitati. Quindi Antonio se sei pronto parti e direi che se riusciamo a tenerci tutti in dieci minuti, riusciamo a coprire la prima ora del nostro incontro con tutte queste valutazioni e poi dare la parola alle persone che sono più di 40, quasi 50 presenti per le loro domande, richieste di intervento e così via. Grazie Antonio Colonna, uno degli autori del progetto. Beh innanzitutto mi presento perché appunto ci sono molti partecipanti, quindi io parlava a Mariangela prima dell'esperienza di Pianezza, io ho lavorato, ho fatto per 15 anni il direttore dei servizi del consorzio CIS di Pianezza Venaria, che è il consorzio di servizi socioassistenziali e se volete anche i sociosanitari del distretto di Venaria dell'ASL-3. Quindi ho lavorato a lungo con i colleghi dell'ASL-3, del distretto sanitario per quanto riguarda i servizi di territorio, in particolare per quanto riguarda la programmazione e l'organizzazione dei servizi sociosanitari, quindi per persone malate croniche o persone non autosufficienti. Quindi mi sono dedicato a questa iniziativa perché la condivido molto. La premessa che citava prima Mariangela fa immediatamente riferimento a quello che è il problema reale che stiamo affrontando oggi nei servizi e nel sistema sanitario, che è l'assoluta carenza del rapporto tra la rete ospedaliera e il terzo livello d'alta specializzazione e la rete assistenziale primaria territoriale di cura. Cioè c'è un problema di mancanza di continuità della cura delle prestazioni, c'è un problema di mancanza di continuità della presa in carico delle famiglie e delle persone, proprio perché esiste un discorso di frammentazione, di parcializzazione degli interventi che ovviamente si origina già prima del Covid. Sappiamo bene che è una storia molto lunga e purtroppo la storia forse degli ultimi 10-15 anni della storia dei nostri servizi, probabilmente tutta la questione collegata con la riduzione e i tagli dei servizi ha portato a questa situazione, che molto brevemente cito, perché così faccio prima, nel rapporto, chi ha avuto modo di leggerlo, dell'Oasis 2020 della Bocconi, lo chiarisce molto bene quando dice che siamo di fronte a una frammentazione tra i nodi della rete dei servizi. L'esempio di quanto è successo nell'RSA è stato assolutamente evidente per in qualche modo determinare la mortalità che è avvenuta in questo anno a seguito del Covid, che c'è un problema di scollegamento e che le famiglie si ritrovano a ricercare risposte ai propri bisogni, spesso ricercando nella complessa rete dei servizi le risposte e chi può intervenire. Noi abbiamo costruito quindi questo progetto facendo riferimento alla riunione che ha detto Mariangela di tre mesi fa, pensando come un Maria Delaide potrebbe diventare una sorta di progetto sperimentale innovativo che provi a ricostruire questa... ...che è una sciantellese, buona, piacevole... ...purtroppo... ...deve per favore riavviare l'audio. ...ci sono, mi sentite? Sì. Ok, quindi il tema che ha mosso, partendo dall'incontro che appunto avevamo avuto tre mesi fa, è come ricostruire questa continuità dei servizi, sostanzialmente il rapporto tra ospedale, domicilio e territorio. Per questo motivo abbiamo individuato tre proposte operative concrete. Una parte, e si è fatto già riferimento prima, al tema della Casa della Salute, cioè a rivedere il ruolo e l'organizzazione dei medici di medicina generale. L'altra parte, dal tema che abbiamo sottolineato sulla riapertura, anche nel Maria Delaide, della possibilità di riattivare un presidio di posti di reparto, di riabilitazione, quindi sia con posti letto, ma anche con attività ambulatoriali. E l'altro tema riguarda, collegandolo col sistema assistenziale, le cure domiciliari. Collegare quindi la possibilità che una persona che debba ricorrere all'ospedale e che però ha, una volta dimessa dall'ospedale, il bisogno di continuità di cure, di prestazioni, di attività di tipo riabilitativo, possa avere nella città di Torino un punto di riferimento che possa, quindi, accoglierlo per i 30 giorni previsti di riabilitazione o, eventualmente, in alternativa, si potrebbe pensare anche all'apertura di posti letti come CABS, cioè la continuità valenza sanitaria prevista dalla normativa regionale, che sono attività di cura extraspedaliere successive alle dimissioni e necessarie per rispondere a particolari situazioni clinico-assistenziali. All'interno di questo percorso è possibile prevedere già l'attivazione delle cure domiciliari per le dimissioni delle persone per il ritorno a casa, con la presenza già all'interno della struttura, cioè dell'ospedale, della Casa della Salute e quindi della presenza dei medici in medicina generale. Perché ricordo, da questo punto di vista, che l'articolo 22 dei nuovi LEA ci parla esattamente di assistenza domiciliare e ci dice che l'azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio, che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumano la responsabilità clinica dei processi di cura valorizzando il sostegno e il ruolo della famiglia. Quindi noi pensiamo al Maria dell'Aido come un luogo di sperimentazione che possa ricostruire questa filiera, che possa ricostruire questo percorso di continuità delle cure tra domicilio, l'ospedale e rientro a casa, che è quello che è mancato in maniera estremamente chiara, per esempio in questo periodo di Covid. All'interno di questo abbiamo, riteniamo importante, una proposta che faceva Eleonora nell'incontro che avevamo fatto, l'apertura del PUA, cioè del punto unico di accoglienza socio-sanitaria come punto di riferimento per i cittadini e per le famiglie per poter fare le domande e richieste di attivazione di servizi di assistenza socio-sanitaria di cui hanno bisogno. Quindi non so se adesso avete avuto modo di vedere il progetto, il progetto sostanzialmente parla di questi interventi, ha questa ambizione, posso dirvi che ho fatto alcune battute, sono riuscito a fare alcune battute con il direttore sanitario della Città della Salute, il quale ritiene che effettivamente una città come Torino di 800.000 abitanti che non abbia un luogo di prestazione e di intervento di questa natura è abbastanza emblematico. Sottolineo questo perché nella città di Torino mancano assolutamente posti letto per interventi di continuità assistenziale e sappiamo che anche sulla Casa della Salute ci sono delle grosse criticità. vorrei, visto che i miei dieci minuti stanno scadendo, sottolineare che nel documento abbiamo fatto molta attenzione a riportare le normative. Sottolineo solo questo aspetto e poi chiudo. Stiamo parlando di interventi dalla Casa della Salute alla riabilitazione, alle cure domiciliare, al punto unico di accoglienza, al CABS che sono assolutamente ricomprese nelle leggi regionali e anche nazionali e nelle delibere regionali. Non stiamo parlando di provvedimenti che hanno bisogno di provvedimenti attuativi. Questo è un altro aspetto drammatico che sopprino e cioè che molti interventi, a partire dalla domiciliarità, dalla non applicazione della legge 10 del 2010 in poi, siamo di fronte a una situazione emblematica dove di fatto i provvedimenti rimangono sulla carta e non vengono attuati. Questo pone una questione di fondo per tutti i partecipanti anche alla serata. Dal mio punto di vista la situazione sanitaria è veramente critica. Non mi pare che la regione Piemonte stia assumendo dei provvedimenti per modificare le criticità che sono emerse col Covid. Mi sembra che uno dei pochi provvedimenti che abbia assunto, che almeno io conosca, sono i 10 milioni di euro che hanno messo a disposizione per i medici di base per promuovere la partecipazione dei medici di base alle case della salute. Non conosco altri tipi di provvedimenti. Quindi siamo in una situazione un po' emblematica perché la regione non sembra che stia assumendo i necessari provvedimenti che occorrono e che dia quindi delle indicazioni chiare in questa direzione. Non discute, mi pare, molto di quello che intende fare e quindi qua c'è un problema di tavoli, di confronto che occorrerebbe aprire e avviare a partire dal tema del recovery plan e del come si intendono utilizzare i fondi del recovery plan. Quindi la chiudo perché la proposta, questa proposta può essere molto importante. Bisognerebbe ovviamente capire dai partecipanti cosa se ne pensa, ma anche sarebbe interessante capire anche come procedere, quali possono essere delle ipotesi, dei suggerimenti per portare avanti questa iniziativa e incidere nei confronti di questa amministrazione regionale con le problematiche che dicevo prima. Mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Antonio, grazie mille. Mi fai venire in mente i versi del poeta. Le leggi vi sono ma chi può manna delle.